Francesca Benolli Ecco, possiamo osservare subito la concentrazione di Francesca prima di partire per l'esercizio alle parallele asimmetriche Francesca che è allenata da Diego Pegar e Magrì Teresa è della Società Artistica 81 di Trieste è pronta, ormai si sta ultimando la preparazione ecco, è pronta per partire inizia subito attaccando sullo stagio basso con una kip fa uno stagio unito e uno stagio divaricato con un giro si porta sullo stagio superiore si prepara ad affrontare il salto ecco, questo è il salto, un salto Jäger Francesca Benolli è campionessa europea in Ungheria a Debrecen nel 2005 e poi è stata un po' sfortunata, no? Sì, Francesca è una grande specialista del volteggio a Debrecen ha avuto l'opportunità di utilizzare ecco l'uscita lo Tsukara veramente